Ciao a tutti ragazzi, sono Dario Caliendo e in questo video vi spiegherò come impostare una GIF come sfondo animato in Android. Lo faremo con un'applicazione gratis disponibile nel Play Store e credetemi la procedura è veramente molto semplice. Sostanzialmente questa procedura richiede tre passaggi. Il primo è scaricare l'applicazione, il secondo è scaricare una GIF che volete utilizzare come sfondo, il terzo è impostare la GIF come sfondo animato sul vostro dispositivo Android. La prima cosa da fare è scaricare GIF Live Wallpaper dal Play Store, noterete che è un'applicazione totalmente gratuita e una volta scaricata l'app tutto quello che dovrete fare sarà avviarla e concederle tutti i permessi necessari per leggere i file nella vostra galleria. A questo punto non vi resta che cercare la GIF su una delle tante piattaforme online e una volta trovata la vostra GIF tapparci a lungo e salvarla come immagine. Tornati nell'applicazione, tutto quello che dovrete fare sarà selezionare l'icona in alto a sinistra e scegliere la GIF che avete appena scaricato. A questo punto la GIF si aprirà, potrete ridimensionarla, potrete modificare la rotazione o modificare la velocità dell'animazione. Una volta terminate le modifiche non dovrete fare altro che procedere e selezionare la voce applica. E voilà il gioco è fatto, da ora in poi avrete una GIF animata come sfondo animato del vostro dispositivo Android. Potete impostare la GIF come sfondo animato per la home di Android oppure potrete impostarla come immagine animata del blocco schermo del vostro dispositivo. Se la qualità dell'immagine non è alta non preoccupatevi, in realtà le GIF hanno generalmente una qualità piuttosto bassa. Io sono Dario Caliendo, appuntamento al prossimo video di TechFanpage. Grazie a tutti.